Ciao Briz, ragazzi io non mi paragono con persone meno bravi di me, mi paragono sempre con chi è meglio, quindi non lo conosco, non lo seguo Mi fa ridere fare questa cosa perché chi segue Briz è molto fomentato, proprio come lui E quindi ha una fanbase molto diversa dalla mia e secondo me ha anche qualche player che approva il suo comportamento in game che per me è da arresto Ma